Sì, siamo molto contenti, dopo la prestazione che abbiamo fatto qui all'andata si tenavamo molto a fare la figura, prima di tutto abbiamo dovuto vincere l'anno a partita molto difficile e poi siamo tutti qui convinti di essere più forti. Vi abbiamo mostrato una partita nella quale sono stati superiori praticamente ai tutti fondamentali, però tutto bene, avete preso tanto, avete tutti benissimo a mura. Sì, abbiamo giocato molto bene, partendo bene abbiamo messo in fronte la recensione, dopodiché a Muro abbiamo delle scelte molto semplici, molto bravi, palla in mano, giustisci molto bene e poi abbiamo fatto bene anche la nostra fase con noi. A questo punto da tre giorni seguono il tempo, arriviamo a Muro con una squadra molto forte, con una giocatrice, insomma, con una scelta in Serie A, eccetera, c'era un'altra battaglia. C'era una battaglia, noi ce la giocheremo fino alla fine, vedendo che è ancora più forte. Alla fine cosa servirà, su cosa bisognerà vincere questo finale? Allora, nei play-off bisogna trapporre tutta la grinta e l'abolismo che si ha, dopodiché ci vuole dire la tecnica e noi sappiamo che sono molto forte, da questo punto di vista vedremo anche se tutto la grinta sarà una lontezza.